Tutto il peso della tradizione italiana non si capisce dove stia, su quali spalle gravi se non su quelle salta fuori Prezzolini. Ora, per carità, Prezzolini è stato un importante organizzatore di cultura italiana, molto importante, ha costruito un paio di riviste sulle quali hanno scritto le persone che pensavano nei primissimi anni del XX secolo, per cui tanto di cappello. Però, insomma, fargli sopportare il peso di una tradizione italiana o, peggio ancora, il peso della nuova autodefinizione che questo partito dà di sé, cioè partito conservatore, è spropositato. Ma è anche vero che questo partito non riesce a riallacciarsi significativamente a nessuna esperienza storica della storia d'Italia. È un partito che vive nel presente, come tutti gli altri partiti di questa fase storica. Non è che abbiamo davanti a noi dei portatori di una concezione della storia e della politica a livello eghiliano. Vivono tutti nel presente. Non sanno come rapportarsi al passato se non attraverso il meccanismo un po' patetico, fascismo, antifascismo. Allora, è per questo che poi uno prende in mano la penna e scrive. Perché il messaggio da mandare è, attenzione, questo partito non è un partito fascista. Il fascismo è stata una cosa seria, anche se non propriamente fortunata, ed è stato soprattutto un evento storico. L'idea sbagliatissima del fascismo eterno va cancellata. Va cancellata perché non consente di comprendere nulla. E io vengo da una serie di incontri nei quali io sento parlare di politica nel modo più sbagliato possibile. Cioè tutto ha giocato su i valori e i diritti. I valori e i diritti. Quando invece per parlare di politica bisogna parlare di capacità di analisi, capacità di analisi del presente e quindi evidentemente capacità di risalire genealogicamente dietro il presente alle sue cause e capacità di azione pratica. Mentre invece quando si parla di valori e di diritti molto spesso si resta soltanto nell'invettiva e nello schematismo definitorio inutile. Questi si autodefiniscono conservatori. Anche qui, attenzione, conservatore è o è una cosa serissima, ma non è assolutamente il loro caso. Cioè l'unico conservatorismo che sia indipendente dal liberalismo o dal pensiero popolare, del popolarismo è il conservatorismo dello Junkertum tedesco che fra la fine del Settecento e gli inizi dell'Ottocento tenta di resistere alla modernizzazione, cioè alla trasformazione del latifondo della Prussia orientale in qualche cosa di diverso da quello che era. Sono cose che non hanno assolutamente niente a che vedere con la nostra vicenda. Altrimenti il conservatorismo è due cose. Una versione di un certo tipo del liberalismo, una versione di un certo tipo del popolarismo. Una versione del liberalismo, cioè che dà per accettato alcune poche, pochissime idee che vengono genericamente attribuite a una cultura politica liberale con accentuazione di alcuni aspetti, individualismo poniamo, e con invece mancata accentuazione di altri, razionalismo. Tipicamente il conservatorismo, poniamo inglese, ha questa caratteristica. Cioè di essere portatore di un pensiero critico di alcuni aspetti della modernità. Ma non di tutti. È Jung, non è, che so io, Donoso Cortez. C'è l'idea che gli esseri umani hanno delle invarianti di comportamento, che la ragione non spiega tutto, che non si può applicare uno schema razionalistico sulla realtà, che la realtà è prodotto dell'evoluzione lenta o della sedimentazione di comportamenti selezionati positivamente o negativamente dalla storia, che implica che un po' la storia la devi conoscere. Comunque è una posizione politica largamente compatibile con la democrazia, non ha niente che non, diciamo così, un conservatore vive dentro la democrazia magari senza entusiasmo, ma ci vive. Pensate a Churchill. Senza entusiasmo, non è un laburista, però ci sta. Se no, un conservatorismo alla Strauss, cioè un popolarismo bavarese molto, come dire, chiuso, molto poco propenso alla trasformazione dei costumi, molto attento difensore delle tradizioni, attento difensore della proprietà, insomma cose che ci stanno dentro un contesto democratico come alla destra e così. Il dire io sono conservatore senza dire a che razza appartengo vuol dire che non appartengo a nessuna razza. Come è il nostro caso? A fascismo vuol dire questo, che questo pensiero politico è un pensiero che nasce fascista, qualunque cosa voglio dire. Lentamente nel corso dei decenni con fatica e con contraddizione evolve fino ad arrivare, con AN a determinati esiti, fino ad arrivare con Fratelli d'Italia a una posizione che nella pratica, lasciamo stare quello che stava scritto nelle tesi di Trieste, ma insomma nella pratica è sostanzialmente scollegato da qualunque esperienza storica, scollegato. Il fascismo è presente, come si direbbe in filosofia, nel modo dell'assenza, cioè è un buco, è un vuoto. È un vuoto. Allora, per questo il loro conservatorismo è così strano, perché non è la versione conservatrice di un'ideologia specifica, è la versione conservatrice di un vuoto. Per questo siamo davanti alla possibilità di comportamenti diversissimi, anche contraddittori, che nascono dal fatto che non c'è una linea di pensiero. quando io dico ma questo è è un partito che ha sposato il produttivismo nella sua forma più elementare, lo dico perché si vede, si capisce che da una parte si accettano le logiche le logiche diciamo così del capitalismo nella sua forma anche più primitiva. Basti pensare che l'altro giorno davanti a quel tipo morto senza un braccio è stato detto non si devono criticare gli imprenditori. Ho capito, va bene. D'accordo. E chi li critica? Però si può dire che c'è un imprenditore che è anche un delinquente. Ecco. Da una parte e dall'altra come offerta di conservazione che cosa c'è? bisogna accettare poi attenzione poi ci sono le cose serie cioè l'università è stata trasformata in un ossimoro cioè in un'azienda burocratizzata e questo dalla legge Gelmini 2010 non è che questi nostri nuovi governanti invertono la rotta anzi vanno avanti tranquilli la sanità pubblica viene lentamente trasformata in qualche cosa di serie B rispetto alla sanità privata beh questo non mi sembra che sia un comportamento molto molto socialista ecco l'unico elemento di serietà di solidità che viene offerto è Dio Patria e Famiglia come dire tenetevi la complessità del reale le contraddizioni del reale le difficoltà di stipendio tenetevi tutto tenetevi tutto e quando non ne potete più Dio Patria e Famiglia l'unica certezza in un mare di incertezza è un po' poco per essere conservatori i conservatori dovrebbero cercare la stabilizzazione reale delle dinamiche sociali non l'accettazione di quel che viene e viene e poi un'offerta ideologica di certezza e così a buon mercato oltre a Dio Patria e Famiglia c'è un altro concetto l'orgoglio che è la parola ricorrente non è che l'orgoglio l'orgoglio di che cosa non si sa l'orgoglio di essere italiano perché abbiamo avuto Michelangelo non è merito nostro che ci sia stato Michelangelo merito nostro è conservare rendere fruibili le sue opere e la tradizione dov'è? la tradizione sono delle cose un po' strane tipo Dante di destra cioè un tentativo fatto proprio da chi non controlla non controlla la storia civile del paese il tentativo di operare un cortocircuito fra l'inizio Dante che poi non è un inizio di niente se non della letteratura italiana Dante e la destra che se noi andiamo a vedere il pensiero politico di Dante è completamente estraneo a qualunque ai nostri problemi a nessuno dei nostri problemi Dante ce l'ha in mente evidentemente per cui non si capisce che cosa voglia dire ecco voi direte beh va bene hai parlato male di hai criticato hai posto in evidenza le contraddizioni intrinseche di una struttura di un quasi partito politico però si prende alle politiche 7 milioni di voti oh bene e questo invece è l'aspetto serio delle cose voti che non vengono dati allora ci sarà sicuramente un nucleo tenete conto che non sono poi un politologo ma mi immagino che ci sia un nucleo di persone che votano fratelli d'Italia come avrebbero votato il movimento sociale come soprattutto dalle mie parti ci sono forti nuclei di persone che votano PD come se votassero PC e va bene però non sono 7 milioni ecco e gli altri cosa sono gli altri sono l'Italia moderata probabilmente i padroncini non il grande capitale che se la cava sempre con altri sistemi probabilmente i padroncini forse anche pezzi di mondo operaio l'Italia moderata che non è per niente interessata alle sottigliezze teoriche che nascono dal tentativo di decifrare questa formazione politica e che è interessata a un messaggio che viene mandato il primo messaggio vincente che viene mandato è non è vero che voi siete brutti sporchi cattivi ignoranti e dovete essere migliorati come dice di voi la sinistra questa è fu la mossa di Berlusconi ed è anche la mossa di questo sinistra dice guarda che comportamenti orrendi la destra dice andate benissimo come siete se ci sono problemi sono problemi che nascono da qualche infiltrato da qualche nemico che si è infiltrato chi sono i nemici che si sono infiltrati in assenza di comunisti il vero obiettivo l'unico di fatto obiettivo in assenza per carità di ebrei non se ne parla assolutamente lasciato al passato questa roba no un minimo di analisi proprio anche dell'invaggio comune è quel pensiero liberal che viene definito woke cioè lgtbq gender e compagnia bella ecco cioè su questi c'è la polemica questi vengono continuamente attaccati come portatori della corruzione dei costumi e come come i portatori del nichilismo niente meno che del nichilismo l'unico nemico ripeto in assenza dei comunisti che erano ottimi ma insomma non ci sono più l'unico nemico vero sono questi qua cioè delle persone che sono un po' diverse dall'italiano moderato ecco niente di più niente di più il tutto messo insieme con chiudo con una buona capacità di gestione della contingenza buona e con un compito ecco se io devo arrivare a una conclusione teorica è questa questi non hanno più niente che fare col mondo della destra radicale radicale col mondo culturale che non dico ci si sarebbe aspettati di sentire evocare ma insomma che qualcuno ogni tanto potrebbe ancora evocare cose che non avviene non sono antidemocratici quel mondo era un mondo apertamente antidemocratico che portava in campo una aggressività teorica e poi politicamente un'aggressività pratica contro i principi dell'89 contro la modernità contro quel che volete cioè era una alternativa radicale al mondo tanto liberale quanto democratico quanto socialista antidemocratico i grandi nomi dei grandi intellettuali coinvolti in questa grande operazione che va metti dal 1790 al 1950 tanto per sono letteralmente scomparsi ripeto è sopravvissuto Prezzolini ma che è esile ecco nemmeno gentile sì gli fanno i francobolli ma evidentemente gentile sfugge a una facile presa propagandistica dunque è meglio lasciarlo lì è quasi illegibile ormai se non da uno specialista non parliamo di che so io dei contro rivoluzionari cattolici praticamente non conosciuti non parliamo dei tedeschi non parliamo di Carl Schmitt non parliamo di Jung cioè gli autori che quella che si chiamava destra che poi era più che destra era altro che adoperavano contro il mondo moderno o comunque contro la democrazia liberale sono scomparsi ma è scomparso un progetto antidemocratico un progetto antidemocratico no ma c'è in cambio c'è un'altra cosa questi non sono antidemocratici sono post democratici questo sì questo sì cioè questa questa destra lungamente filtrata nel corso dei decenni è arrivata finalmente al potere è una destra che non ha nessuna idea di fare una rivoluzione antidemocratica no semplicemente vuole stabilizzare formalizzare stabilizzare buona per forse tutti i trend post democratici che si sono prodotti negli ultimi decenni non certo per opera della destra che era fuori da tutti i giochi ma per opera del neoliberismo mondiale e il concetto di post democrazia che cos'è chiudo su questo ma è facilissimo pensate la repubblica romana sotto ottaviano augusto c'erano tutte le magistrature restaurate tutte e non contavano niente la post democrazia è tenere tutte le istituzioni della democrazia svuotate di capacità politica vuoi le elezioni ma ti do tutte le elezioni che vuoi vuoi partiti prego tutti i partiti che vuoi ma attenzione non contano nulla la politica reale passa attraverso la disintermediazione cioè il rapporto capo cittadini e il potere reale gira da tutt'altra parte rispetto al Parlamento poveretto e questo è esattamente quello che fa la destra il potere non anti democrazia troppo difficile troppo complicato troppa rivoluzione no 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 post democrazia e la fissiamo e la blocchiamo e la strutturiamo il premierato elettivo dà al premier dei poteri che ha già di fatto ha già di fatto non è che non è che il premierato elettivo che è una mossa tipicamente antiparlamentare è una mossa tipicamente di destra non è che sta uccidendo un Parlamento vivo e vitale non è che sta uccidendo è come se voi trovate per strada un tizio con un pugnale piantato nel petto che sta morendo avete due due ipotesi la prima tentate di aiutarlo e allora fate il cancellierato la seconda gli date il colpo di grazia e fate il premierato elettivo questa è una destra che porta a compimento processi storici almeno trentennari largamente descritti attraverso il concetto di post democrazia essendosi dimenticata completamente le proprie origini l'ha detto Tarchi il fascismo il neofascismo è fallito e e lo può fare perché ha sostanzialmente le mani libere non deve niente a nessuno non è legata praticamente a nessuna ideologia non è la l'applicazione conservatrice di una qualche grande ideologia conserva quel che c'è e lo razionalizza e agli italiani dice va bene così questa è la forza di questa posizione politica ho fatto davvero fatica a tentare di dare una forma concettuale a questo sistema che non è ovvio e che ha una sua forza che non viene colta da chi dice che questi sono fascisti perché ci saranno anche dentro dei ragazzini che fanno il saluto romano ma sono quasi certo che Giorgio Meloni quella mano gliela taglierebbe se potesse non è lì non è lì a parte il fatto che nessun fascista si sarebbe mai definito un conservatore a parte il fatto che forse adesso questi tentano di entrare perfino nel P.P.E. per cui non è lì la forza di questa posizione è un'altra poi può darsi che io venga smentito dal dal fatto che fanno qualche pazzia ma al momento non mi sembra che vogliono fare delle pazzie vogliono stendere una democrazia è liberale e una post democrazia si assomigliano molto concettualmente ma senza violenza senza senza traumi assecondiamo quello che c'è e cerchiamo di durare il più possibile al potere che non va mai male e vi ringrazio per l'attenzione grazie a tutti Grazie.